Grazie, grazie mille. Siamo arrivati alla fascia di Miss Intimo Aurel Store di Scala, premio Enelisa Meios e Camino del Romano. Abbiamo una fascia molto pronta, non lo so che non lo so. Quindi la fascia di Miss Intimo Aurel Store di Scala va al numero 13, Giorgia Coscia. Un bravo, Giorgia. Un bravo, Giorgia. Quindi siamo arrivati adesso per un'ultima fascia, prima di come i bambini, invece dell'ottimitore. Quindi è la fascia di Miss Intimo Aurel Store, e non lo so che abbiamo fatto. E' sempre che abbiamo fatto, tra i bambini e i bambini, che abbiamo fatto un'ottimitore. Abbiamo fatto una fascia, abbiamo fatto una fascia, abbiamo fatto un'ottimitore, poi i bambini hanno il centro di palco. l'ultima fascia, e poi è l'ottimitore di Miss Intimo Aurel Store. Fascia delle 500 di attacchi, fa al numero... al numero... Semi, Yamila, Metalli. Perchè le ragazze dietro di Stringer, gli esperimenti sono formati. Adesso sono sicuri che possono scappare degli pugni a l'aria. e poi si può scappare della pietra. E poi si può scappare dei piedi. E poi? E poi? Vi vediamo a vedere queste cose! E poi? Beh, grazie! Facciamo un'altra parte, e adesso? Ecco... E poi? E poi? E poi? E poi? E poi? Adesso con questo modo viene il caldo. Grazie a tutti e alla destra, grazie a tutti, facciamo un applauso a tutti i ragazzi, alle tappe, alle tante e alle tre, a tutti i calzani, a tutti i calzani, a tutti i calzani e a tutti i calzani. per la prima volta di San Paolo che fa parte del nostro sangue e lo so che va, non è male e ora come tutto il mio padre è che è la mia famiglia della tele ovviamente la prima volta è la mia famiglia che è una cosa che mi ha fatto che è una cosa che è fondamentale quindi felice per fare una retta di Levento che va a ordine per la sangue e soprattutto rispondono anche per fare Don Mattino Leonardo da Pedenti, da Pedimento chi vincerà, chi vincerà questo concorso